Allora ragazzi, richiedo con la formazione, il saluto di tutti e grazie alla nostra telecamera Trafican Short Production, potremmo chiamarvi sul Facebook, su YouTube, le vostre interviste L'alcol sta girando parecchio, come ti chiami? Ci fai l'intervista col bicchiere in testa? Faccio sciogliere un po' il ghiaccio al fondo del bicchiere perché se no sono cazzi acidi Ma secondo me prima che si scioglie il ghiaccio il cocktail è finito No, ce la faccio, se non mi emozionano con le spinte Allora, come ti chiami? Fabrizio Cavallo Fabrizio Cavallo, io ho paura a fare questo intervista Tranquillo, vai tranquillo, ce l'ho Allora, Cavallo, conosci il gioco del sì e del no? No Io ti faccio delle domande e tu devi rispondere senza dire né sì né no No Cosa no? Yes man, sì Cavallo, secondo me Cavallo, quanti cocktail hai bevuto? Tre E quanti ne hai messi sulla fronte? Analcolici uno Ti voglio bene, ma mi sei venuto adesso Oh, salutasi tutti Vi saluto tutti Grazie 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 a tutti